sembra che abbiano bisogno di un medico sono compagni d'allenamento mediocri dal primo all'ultimo devo allenarmi con un professionista prima della battaglia delle cento mani mi serve un campione forse il tuo campione è arrivato ma davvero se dici sul serio parteciperò ufficialmente alla battaglia se ti alleni con me drachio ci ammetterà entrambi questa battaglia la battaglia delle cento mani e la sfida più ardua del mondo greco miete numerose vittime e le probabilità di successo sono scarse sei sicura di volerti allenare per affrontarla uccidere il mio mestiere e lo faccio bene hai la mentalità giusta te lo concedo ma non puoi semplicemente fiondarti nella battaglia delle cento mani e pensare di vincere richiede preparazione se io volessi combattere nella battaglia delle cento mani affrontami e dimostrati un degno compagno d'allenamento beh l'hai voluto tu potresti essere il campione che cerco vieni da sparta se non sbaglio non sbagli si capisce dal tuo modo di combattere aggressivo ma non avventato mi chiamo rossane alexios il prossimo allenamento è con l'arco non possiamo tardare andiamo che entusiasmo bene qui vicino è naufragata un'imbarcazione che trasportava lupi erano per la battaglia ma ora sono i bersagli per il nostro allenamento andiamo a caccia qui siamo a distanza di sicurezza ora colpiamo quei dannati lupi prima che diano la caccia ai bambini del posto e vediamo se posso imparare qualcosa da te è bello essere qui noi due da soli sì veramente durante l'allenamento c'era molta gente sarai felice di sapere che il resto dell'allenamento sarà più privato andiamo a caccia qualche pelle in più fa sempre comodo un vero campione lo sapevo prepara l'arco non è stato esattamente l'allenamento con l'arco che speravo i lupi sono morti è questo che se lo dici tu quanto dobbiamo allenarci ancora prima di poter partecipare alla battaglia come non vuoi passare altro tempo con me passare tempo con te non so cosa dire non dire altro in un certo qual modo mi vedo riflessa in te sì ci conosciamo da poco eppure sento una connessione sei una creatura unica alexis manca ancora una sessione di allenamento dove si va a casa mia andiamo avanti ora che abbiamo salvato i bambini di idra da un branco di lupi affamati possiamo passare ad altro tu scherzi ma abbiamo scongiurato una vera minaccia le tue scelte hanno un impatto alexius gli abitanti dell'isola hanno già beneficiato delle tue azioni allora completiamo l'allenamento abbiamo delle faccende in sospeso parli dell'allenamento o di qualcos'altro è stato divertente combattere uccidere i lupi continua credo proprio che la prossima sfida ti piacerà assi correremo a piedi chi arriva prima sul punto più elevato dell'isola vince l'ultima parte dell'allenamento è una corsa la battaglia delle cento mani richiede abilità forza e soprattutto resistenza un partecipante stanco è un bersaglio facile per i più resistenti io faccio regolarmente offerte a hermes per restare veloce e se dovessi vincere quale sarebbe il premio il diritto di vantarsi fantastico non è al risultato che devi puntare ma all'allenamento dopo questa sessione potrai partecipare alla battaglia delle cento mani io garantirò per te e tu garantirai per me sono pronto hai detto che correremo fino all'altura sì l'altopiano dall'altra parte della città la gara comincia il mio via 3 2 1 credevo fossi più veloce devo rallentare sei veloce anche con tutta quell'attrezzatura è facile dimenticare quanto sia bello qui quando ti alleni così duramente vuoi dire troppo allenamento poco divertimento si intuisce che nascondi qualcosa forse di solito vengo qui per ricordarmi di vivere l'attimo immagino che questo possa funzionare credimi era sempre nudo e della gente a città era persino costruita una statua in suo onore che ne è stato di lui quella è l'isola di milo dove molti guerrieri vanno a morire alla battaglia potremmo scontrarci e solo uno di noi due sopravvivrà credevo che fossi qui per vivere l'attimo e che cosa ne pensi di questo dico che dovrebbe durare più di un attimo devi proprio indossare così tanti vestiti lo richiede il mio lavoro suppongo immagino che sia un addio almeno fino alla battaglia non rendiamo le cose più difficili non posso fare a meno di pensare che non dobbiamo batterci per forza potresti sottrarti alla battaglia come potrei fare io ma non lo farai hai ragione addio rossane è rimasto ancora un guerriero si esatto pazienza alexios pazienza parla drachio è rossane è ancora viva l'ultimo sfidante si avvicina vieni coraggio la battaglia finirà all'ombra del vulcano a est sembra che l'allenamento abbia dato i suoi frutti stavo per dire la stessa cosa basta chiacchiere il pubblico vuole un campione facciamola finita possiamo abbassare le armi non dobbiamo dimostrare nulla questo è scandaloso rossane solo uno di voi due può vincere la battaglia e diventare campione non siamo costretti a farlo pensa il premio rossane esatto tutto quello che hai sempre sognato è a portata di mano possiamo andarcene solo uno di voi entrerà nella leggenda il prezzo da pagare era chiaro fin dall'inizio alexios non parlo sono così vicina basta la battaglia deve finire no rossane decideremo noi come finirà non lui cominciò a pensare che esistano cose più importanti delle dracme e della gloria vieni con me sulla mia nave l'Egeo è pieno di avventure che ci stanno solo aspettando sì verrò con te no la battaglia deve finire è finita Dracchio finirà quando lo deciderò io guardie grazie Mistios allora ci vediamo alla mia nave? sì sono pronta ad andare ovunque ci conduca il vento l'avventura ci attende ovunque sia la affronteremo insieme sì no sì sì è sì 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 Grazie a tutti.